Senti, senti, cosa farai da grande? La chebata, e io la pittrice, e io la parrucchiera. E tu? L'esploratore. Io preferirei l'avvocato. No, è più bello l'esploratore. Allora signora, questi bastoncini Findus, per l'esploratore o per l'avvocato? Ma si vedrà. Intanto per farlo crescere bene gli do questo buon pesce che a lui piace tanto. E allora per il futuro avvocato? Esploratore. Bastoncini di Merluzzo Findus. Buon pesce, tutta forza e niente spine.